Benvenuti all'oroscopo settimanale di Paolo Fox. Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 luglio 2023. Unisciti a Paolo Fox per scoprire le previsioni astrologiche di questa settimana riguardo all'amore e alla carriera dei 12 segni zodiacali. Ciao Ariete. Amato Ariete, questa settimana potresti trovare un nuovo slancio di energia che ti spingerà ad affrontare nuove sfide. È il momento perfetto per mettere in atto quei progetti che hai rimandato troppo a lungo. Sia odace e sfrutta al massimo le opportunità che si presenteranno. Amore. Questa settimana potrebbe portare emozioni contrastanti per gli Ariete. Le stelle suggeriscono che potresti essere coinvolto in una situazione romantica complicata. Tuttavia, è importante mantenere la calma e non farsi coinvolgere troppo emotivamente. Cerca di comunicare apertamente con il tuo partner per risolvere eventuali problemi e ripristinare l'armonia nella relazione. Lavoro e carriera. Per quanto riguarda la sfera professionale, gli Ariete potrebbero dover affrontare alcune sfide questa settimana. Tuttavia, con determinazione e impegno, sarai in grado di superare gli ostacoli e ottenere risultati positivi. Mantieni la concentrazione e cerca di evitare distrazioni per massimizzare la tua produttività sul posto di lavoro. Salute. Sotto il profilo della salute, cerca di fare attenzione alla tua dieta e all'attività fisica questa settimana. Un'alimentazione equilibrata e regolare esercizio fisico ti aiuteranno a mantenere una buona forma fisica e a gestire lo stress. Ciao Toro. Cari Toro, questa settimana potresti sperimentare una maggiore stabilità nella tua vita. Concentrati sul consolidamento delle tue basi e sul rafforzamento dei legami con le persone che ti sono care. Non lasciare che le distrazioni ti deviano dal tuo percorso. Mantieni la tua determinazione e raggiungerai grandi risultati. Amore. Per i nati sotto il segno del toro, le previsioni amorose per questa settimana sono molto positive. Potresti sperimentare un nuovo slancio romantico o rafforzare il legame con il tuo partner attuale. Sii aperto alle opportunità che si presentano e cerca di trascorrere del tempo di qualità con la persona amata. Lavoro e carriera. Dal punto di vista professionale, questa settimana potrebbe offrire nuove opportunità di crescita e successo. Se hai un progetto in sospeso o un'idea che desideri realizzare, è il momento giusto per agire. Sfrutta al massimo le tue competenze e le tue risorse per raggiungere i tuoi obiettivi lavorativi. Salute. Per quanto riguarda la salute, i toro dovrebbero prestare attenzione al loro benessere emotivo. Cerca di dedicare del tempo alle attività che ti rilassano e ti fanno sentire bene. La meditazione, lo yoga o una passeggiata nella natura potrebbero essere opzioni benefiche per alleviare lo stress e promuovere il tuo equilibrio interiore. Ciao gemelli. Gemelli affascinanti, questa settimana potrebbe portarti nuove opportunità di comunicazione e di connessione con gli altri. Sfrutta al massimo le tue capacità comunicative e cerca di essere aperto alle diverse prospettive che incontrerai lungo il tuo cammino. Potresti fare nuove amicizie o incontrare persone interessanti che ti ispirano. Amore. Per i gemelli, questa settimana potrebbe portare alcune sfide nelle relazioni. Potresti sentirti più emotivo del solito e potrebbero sorgere incomprensioni con il tuo partner. È importante comunicare in modo aperto e sincero per risolvere eventuali tensioni. Cerca di essere paziente e cerca di trovare un terreno comune per ristabilire l'armonia. Lavoro e carriera. Dal punto di vista lavorativo, i gemelli potrebbero affrontare alcune difficoltà questa settimana. Tuttavia, con la tua intelligenza e adattabilità, sarai in grado di superare gli ostacoli e progredire nella tua carriera. Sia aperto al cambiamento e cerca nuove opportunità per ampliare le tue competenze professionali. Salute. Per quanto riguarda la salute, cerca di dedicare del tempo al riposo e al recupero questa settimana. Lo stress potrebbe avere un impatto negativo sulla tua salute generale, quindi cerca di trovare modi per rilassarti e rigenerarti. Un hobby creativo o una breve pausa dalla routine quotidiana potrebbero fare miracoli per il tuo benessere. Ciao cancro. Amore. Per i cancro, questa settimana potrebbe portare un maggiore coinvolgimento emotivo nelle relazioni. Potresti sentirti più sensibile e desideroso di connessioni profonde. Tuttavia, è importante non farsi trascinare troppo dalle emozioni e mantenere un equilibrio. Comunica i tuoi sentimenti al tuo partner e cerca di trovare momenti di intimità e comprensione reciproca. Lavoro e carriera. Dal punto di vista lavorativo, potresti trovare nuove opportunità di crescita e successo questa settimana. Le tue abilità creative potrebbero essere particolarmente apprezzate, quindi sfrutta al massimo la tua immaginazione e la tua capacità di pensiero fuori dagli schemi. Tieni gli occhi aperti per possibili progetti interessanti o collaborazioni vantaggiose. Salute. Per quanto riguarda la salute, fai attenzione al tuo benessere emotivo. I cancro potrebbero essere più suscettibili allo stress questa settimana, quindi cerca di prenderti cura di te stesso. Trova modi per rilassarti e ricaricarti, come praticare attività che ti piacciono o trascorrere del tempo con persone care. Ricorda di ascoltare il tuo corpo e le tue emozioni. Ciao Leone. Amore. Per il Leone, le previsioni amorose per questa settimana sono promettenti. Potresti sperimentare un rinnovato romanticismo o un'intensificazione delle emozioni con il tuo partner. Approfitta di questa energia positiva per creare momenti speciali insieme e approfondire il tuo legame. Mostra il tuo affetto e la tua gratitudine nei confronti della persona amata. Lavoro e carriera. Dal punto di vista professionale, i Leone potrebbero affrontare sfide interessanti questa settimana. Potresti trovare nuove opportunità di crescita e progresso nella tua carriera. Sia odace nel perseguire i tuoi obiettivi e sfrutta al massimo le tue abilità di leadership. Mantieni l'entusiasmo e la determinazione, e vedrai i risultati che desideri. Salute. Per quanto riguarda la salute, i Leone dovrebbero prestare attenzione alla gestione dello stress. Essendo una persona ambiziosa, potresti essere incline a lavorare troppo duramente e trascurare il tuo benessere generale. Assicurati di trovare un equilibrio tra lavoro e riposo. Fai attività fisica regolare e dedicati a hobby o attività che ti aiutano a rilassarti e divertirti. Ciao Virgine. Amore. Per i Virgine, questa settimana potrebbe essere caratterizzata da una maggiore chiarezza e comprensione nelle relazioni. Potresti trovare nuove prospettive o soluzioni a eventuali problemi che si sono presentati in passato. Comunica apertamente con il tuo partner e lavora insieme per creare un legame più forte e duraturo. Lavoro e carriera. Dal punto di vista lavorativo, le stelle suggeriscono che potresti avere successo e riconoscimento per il tuo lavoro questa settimana. Sii diligente e meticoloso nella tue attività professionali e mostra il tuo impegno e la tua dedizione. Le tue abilità organizzative e analitiche saranno molto apprezzate, quindi utilizzale per ottenere risultati significativi. Salute. Per quanto riguarda la salute, i Vergine dovrebbero prestare attenzione alla loro alimentazione e al loro stile di vita. Cerca di mantenere una dieta equilibrata e includi cibi nutrienti nella tua routine quotidiana. Prenditi cura della tua salute mentale attraverso la meditazione, la lettura o altre attività che ti rilassano. Ricorda di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e riposo per garantire il tuo benessere generale. Ciao bilancia. Amore. Per le bilancia, questa settimana potrebbe portare una maggiore armonia nelle relazioni amorose. Potresti sperimentare un senso di equilibrio e comprensione con il tuo partner. Sfrutta questa energia positiva per creare momenti romantici e rafforzare il legame. Mostra apprezzamento e gentilezza verso la persona amata. Lavoro e carriera. Dal punto di vista lavorativo, le bilancio potrebbero affrontare alcune sfide questa settimana. Tuttavia, con la tua diplomazia e capacità di mediazione, sarai in grado di risolvere eventuali conflitti o situazioni complesse. Fai affidamento sul tuo senso di giustizia e sulla tua intuizione per prendere decisioni sagge. Sii paziente e perseverante, e raggiungerai i tuoi obiettivi professionali. Salute. Per quanto riguarda la salute, cerca di mantenere una routine equilibrata. Prenditi cura del tuo benessere mentale e fisico attraverso l'esercizio regolare, la meditazione o altre pratiche che ti aiutano a rilassarti. Cerca di creare un ambiente sereno intorno a te e dedica del tempo alle tue passioni e hobby. Ciao Sagittario. Amore. Per il Sagittario, questa settimana potrebbe portare una maggiore apertura e avventura nelle relazioni. Potresti sentirti più avventuroso e desideroso di nuove esperienze. Approfitta di questa energia per trascorrere del tempo di qualità con il tuo partner e creare ricordi speciali. Sia aperto alle opportunità che si presentano e lasciati guidare dal tuo spirito di scoperta. Lavoro e carriera. Dal punto di vista professionale, i Sagittario potrebbero trovarsi di fronte a nuove sfide e opportunità questa settimana. Potresti essere chiamato a prendere decisioni importanti che potrebbero influenzare il tuo futuro lavorativo. Sia fiducioso e segui la tua intuizione. Sfrutta al massimo le tue abilità comunicative e la tua proattività per raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Salute. Per quanto riguarda la salute, fai attenzione alla gestione del tuo livello di energia. I Sagittario tendono ad essere energici e avventurosi, ma potresti anche essere incline a bruciarti velocemente. Cerca un equilibrio tra attività fisica, riposo e relax. Mantieni uno stile di vita attivo e cerca di sperimentare nuove attività che stimolano il tuo corpo e la tua mente. Ciao Capricorno. Amore. Per il Capricorno, le previsioni amorose per questa settimana indicano la possibilità di un rafforzamento delle relazioni esistenti. Potresti sentire una maggiore stabilità e sicurezza nel tuo rapporto di coppia. Sfrutta questa energia per creare una base solida e duratura con il tuo partner. Comunica apertamente i tuoi sentimenti e cerca di comprendere le esigenze dell'altro. Lavoro e carriera. Dal punto di vista lavorativo, i Capricorno potrebbero affrontare sfide e responsabilità aggiuntive questa settimana. Tuttavia, con la tua determinazione e il tuo senso di disciplina, sarai in grado di gestire le situazioni in modo efficace. Concentrati sull'obiettivo finale e pianifica le tue azioni di conseguenza. Sfrutta al massimo le tue abilità organizzative per ottenere risultati significativi. Salute. Per quanto riguarda la salute, i Capricorno dovrebbero prestare attenzione al loro benessere generale. Cerca di trovare un equilibrio tra il lavoro e il riposo. Assicurati di dedicare del tempo al relax e alle attività che ti portano gioia. Mantieni una dieta equilibrata e fai esercizio fisico regolarmente per mantenerti in forma e sano. Ciao Acquario. Amore. Per gli Acquario, questa settimana potrebbe portare una maggiore apertura e comunicazione nelle relazioni amorose. Potresti sentirti più incline a esprimere i tuoi sentimenti e a connetterti in modo più profondo con il tuo partner. Approfitta di questa energia per creare momenti di intimità e comprensione reciproca. Sii aperto alle diverse prospettive e cerca di trovare un terreno comune. Lavoro e carriera. Dal punto di vista lavorativo, potrebbero presentarsi nuove opportunità e progetti stimolanti per gli Acquario questa settimana. Sfrutta la tua creatività e la tua visione unica per portare idee innovative nel tuo lavoro. Sarai apprezzato per la tua originalità e la tua capacità di pensare in modo non convenzionale. Affronta le sfide con fiducia e sfrutta al massimo le tue abilità. Salute. Per quanto riguarda la salute, gli Acquario dovrebbero prestare attenzione al loro benessere mentale ed emotivo. Cerca di trovare un equilibrio tra il lavoro e il tempo per te stesso. Dedica attenzione alle tue passioni e interessi personali. Cerca attività che ti aiutino a rilassarti e a trovare un senso di equilibrio interiore, come la meditazione o il tempo trascorso nella natura. Ciao pesci. Amore. Per i pesci, questa settimana potrebbe portare una maggiore dolcezza e romanticismo nelle relazioni amorose. Potresti sentirti più sensibile ed empatico verso il tuo partner. Sfrutta questa energia per creare momenti di intimità e connessione profonda. Mostra il tuo affetto e la tua gratitudine nei confronti della persona amata. Lavoro e carriera. Dal punto di vista lavorativo, i pesci potrebbero trovarsi di fronte a nuove sfide e opportunità questa settimana. Potresti essere chiamato a utilizzare la tua creatività e la tua sensibilità per risolvere problemi complessi. Fidati della tua intuizione e segui il tuo istinto nel prendere decisioni importanti. Sii flessibile e adattabile alle situazioni che si presentano. Salute. Per quanto riguarda la salute, i pesci dovrebbero prestare attenzione al loro benessere emotivo. Cerca di dedicare del tempo al riposo e al relax. Trova modi per rilassarti e rigenerarti, come praticare attività che ti rilassano o trascorrere del tempo con persone care. Ascolta il tuo corpo e le tue emozioni e prenditi cura di te stesso in modo equilibrato.